Stasera siamo molto felici di avere qui con noi Fabio Petretti, un grande sassofonista, un grande compositore e arrangiatore che ci onora della sua presenza. Questo progetto dell'orchestra, Jazz on the Corner Open Orchestra, è un progetto molto ambizioso e speriamo che vada avanti, speriamo che sia supportato dalla cittadinanza. Stasera ci sono un sacco di persone, un sacco di pubblico, quindi siamo contenti e speriamo che lo spettacolo sia un grande spettacolo per tutti. È un'orchestra mista, però è un'orchestra dove c'è una forte componente giovanile, dei giovani talenti, molti sono talenti della nostra città e noi siamo orgogliosi ovviamente di farli ascoltare al pubblico. È vero che il jazz può essere anche una filosofia di vita? Direi di sì, perché poi l'improvvisazione, se ci pensiamo, fa parte da quando siamo nati nella nostra vita. Perciò mettere nella musica quell'improvvisazione che poi serve nel condurre la nostra vita ogni giorno, penso che possa aiutare ognuno di noi.